Uomini e profeti, letture. Conto di almeno due grandi figure della teologia del Novecento, poi nel corso dell'annata lo faremo anche con altri. Naturalmente non dobbiamo pensare che la teologia significhi qualcosa di astratto, di avulso dai contesti, dal contesto della fede innanzitutto e né dal contesto della storia. Intanto perché la teologia è una parola greca, come sapete bene, e nasce in quanto critica del mito, probabilmente il primo a usarla è stato Platone, per mettere a fuoco l'essere come motore del mondo, ma il contesto cristiano nasce anche come preghiera e come riflessione sulla fede e come commento ai testi delle scritture. E dunque molti teologi del Novecento hanno saputo, in realtà in virtù proprio di un loro attraversamento della storia, ripensare il rapporto della vita degli esseri umani con la parola di Dio. Questo è stato il caso di Bonhoeffer, di Romano Guardini, di Thomas Merton, di cui parleremo la settimana prossima, questo di Teilhard de Chardin e di altri, questo è il caso di Karl Barth, il grande teologo svizzero di cui vogliamo parlare oggi. La Bibbia e il giornale Teologia di Karl Barth Con Fulvio Ferrario A parlarcene, come avete sentito, è Fulvio Ferrario che gli studenti della Facoltà Valdesi di Teologia insegna Teologia Sistematica. Buongiorno Ferrario. Buongiorno. Teologia Sistematica cosa vuol dire? Vuol dire una serie di discipline che riguardano la dottrina cristiana, l'etica, l'ecumenica. Ecco, tra l'altro ricorderete che abbiamo parlato di vari libri di Ferrario, ma in particolare di un libro dedicato alla teologia come preghiera, e questo credo che abbia a che fare anche con il nostro autore di oggi, che è Karl Barth. Che cosa significa per lei personalmente fare i conti con Karl Barth oggi, e cosa significa poi proporlo anche agli studenti? Ma nel proporlo agli studenti sono prudente, nel senso che, come dire, i miei gusti teologici non devono affliggere le persone che hanno l'avventura di incontrarmi dall'altra parte della cattedra più di tanto, però certamente si tratta di, questo credo che sia fuori discussione, di uno dei, cosa vogliamo dire, dieci teologi più significativi di tutta la storia della cristianità. Quindi certamente siamo di fronte a una figura un po' speciale, a un classico che come tale impone di essere eletto a tutti, indipendentemente dai punti di vista. Io personalmente ho sempre trovato questo di fascinoso in Barth, che in genere è cinque domande avanti rispetto al mio modo di porre il problema. Cioè, rispetto al problema che io in testa, Barth ha già risposto, e ha già risposto alle domande successive, cioè è già cinque passaggi avanti. Ha risposto, si è fatto delle obiezioni e delle altre risposte. Esatto, per cui si può iniziare il dibattito un po' più avanti, per cui anche se lui è molto lungo in genere, è un po' prolisso Barth, questo bisogna dirlo, però alla fine uno risparmia tempo perché ha bruciato, diciamo così, le tappe del pensiero. Beh, sarà prolisso però anche una, come poi ascolteremo, una lingua avvolgente e avvincente. Sì, ha ricevuto dei premi per la sua prosa, ma certamente, come è stato scritto in una bibliografia su di lui, come epigrafe nell'elenco delle sue opere, Life is short and Barth is long. La vita è breve, ma Barth è lungo. Ecco, tra l'altro è una figura di grande complessità che ha scritto, appunto, una mole di opere immensa e in particolare quella dogmatica che non so in quanti volumi è la dogmatica, tantissimi. Beh, è incompiuta comunque. Ecco, incompiuta anche perché l'ha cominciata a scrivere prima dell'avvento di Hitler e poi non l'ha terminata, non l'ha portata a termine, ecco, però diciamo che sono dieci, tredici volumi. Una dozzina di volumi, sì. E tra l'altro in italiano ne esiste una qualche buona sintesi, per esempio, pubblicate dalla UTET, no? Esiste una parte, la UTET a cura di Aldomoda ha pubblicato una parte, un secondo volume, e poi esistono altri estratti da varie parti di quest'opera monumentale. Ma naturalmente anche altre opere. Per entrare dentro questa figura così di grande complessità e di grandissima mole, diciamo, in tutti i sensi, quale chiave di lettura lei ci ha voluto proporre? Sì, direi il filo rosso della passione politica di Barthes che ha accompagnato tutta la sua vita. Ecco, quando si dice della passione politica, lei dice il filo rosso, però poi quando si leggono i testi si legge teologia e quindi ci deve spiegare che cosa vuol dire, in che modo la passione politica di Barthes ha interagito con la sua teologia. Dunque, intanto non abbiamo detto che nasce nel 1886 a Basilea, dove muore il 10 dicembre 1968 e forse anche questo è il motivo per cui ne abbiamo voluto parlare ora, insomma, per rendergli un omaggio. Certo. Dunque, come nasce intanto il suo interesse per la politica e, prima o dopo o contemporaneo, il suo interesse per la teologia e per la vita di fede? Beh, l'interesse per la vita di fede, diciamo, in famiglia, figlio di un professore di teologia, cresce in questo ambiente. È però pastore, Barthes non fa una carriera accademica all'inizio della sua attività, è pastore in un villaggio di minatori e condivide l'esperienza delle lotte socialiste. Il pastore rosso di Saffinville, nell'Argovia, diciamo, tra il cantone di Zurigo e il cantone di Berna, o Basilea, e appunto è socialista, dove socialista allora voleva dire estremista di sinistra, insomma, nell'epoca di una seconda internazionale ideologicamente atea. E questo, naturalmente, fa abbastanza scandalo. Quindi direi che è l'esperienza pastorale, la partecipazione alle lotte sociali dei minatori di Saffinville, che lo porta a schierarsi nel partito socialista. Da lì nascerà una partecipazione alla vita politica che attraverserà tutta la sua vita, sempre subordinata all'impegno teologico, ma non secondaria. Ecco, tra l'altro il grande teologo, e lo si evince anche dai suoi scritti, ha a cuore una pastorale molto umile, che sia molto comprensibile alle persone semplici. Sì, io credo che la semplicità della lingua è una conquista del Barth maturo. Se noi leggiamo gli scritti precoci di Barth, insomma, quelli più o meno giovanili... Adesso leggeremo qualcosa, sì. Effettivamente c'è una prosa spesso aspra, anche dal punto di vista della sintassi, e anche una certa asprezza contenutistica. Con l'andare del tempo e anche con la maturazione della sua teologia, io credo che ci sia una corrispondenza tra i contenuti e la forma linguistica, anche la prosa di Barth effettivamente si decanta in una semplicità a volte che impressiona positivamente, che colpisce. Che colpisce, sì. Soprattutto nelle preghiere e nelle predicazioni. Ecco, però è da pensare che appunto questa semplicità, pur nella complessità del pensiero che rimane complesso, sia probabilmente anche dovuta a questo contatto con questi semplici suoi parrocchiani fedeli, insomma, no? È iniziata così, poi Barth è diventato un grande professore, molte delle sue preghiere e delle sue prediche comunque sono nate nell'attività pastorale, nella fase matura della sua vita, lui predicava regolarmente nel carcere di Basilea ai detenuti. Ecco, la prima grande opera è un commento all'Epistola ai Romani, di cui escono a distanza di pochissimi anni due edizioni. Noi in italiano abbiamo soltanto la prima? No, soltanto la seconda. Soltanto la seconda, che è quella curata da Giovanni Miege, uscita per Feltrinelli negli anni Sessanta, credo. Sì, e poi sempre riedita. Dunque, che cos'è questo commento all'Epistola ai Romani? Perché è scritta, sentiremo tra poco, con uno stile molto, intanto devo dire bellissimo, ma molto passionale, molto circolare quasi. Sembra non trovare mai un punto. Esatto, si tratta di questo. Barth, che era, ripeto, pastore, non un accademico, un paroco, a un certo punto della sua vita, nel 1914, in seguito al scoppio della Prima Guerra Mondiale e alla solidarietà offerta anche dai teologi tedeschi alla politica del Kaiser, lo svizzero Barth fa questo ragionamento, in sostanza. Se questo, cioè la solidarietà a una politica bellicista, è l'esito della grande tradizione teologica ottocentesca, allora bisogna ricominciare da capo. Ricominciare da capo vuol dire cominciare dalla Bibbia, e come spesso accade nella storia del Cristo, e come spesso accade nella storia del Cristo,